Questa settimana appena conclusa invece ci ha restituito una situazione in miglioramento che ci fa preludere a un indice RT che non supera l'1 e una situazione anche di casi sintomatici intorno ai 50. La scorsa settimana praticamente tutti i giorni sono stati intorno ai 50 casi sintomatici e praticamente quindi una stabilizzazione verso il basso di questo indice. La prossima settimana ovviamente si riapriranno le scuole solamente se gli indici comunque tenderanno a scendere perché comunque gli indici prima quando noi li abbiamo chiusi erano in salita. Si sono stabilizzati e stanno scendendo e quindi noi faremo un tavolo con il mondo della scuola, i sindacati, l'ufficio regionale scolastico per vedere questa possibile apertura del 25. Per esempio noi stiamo provando ad adottare delle misure per la reazione dei locali perché è una cosa primaria far tornare i ragazzi in sicurezza nelle scuole attraverso fondi per impianti di reazione e attraverso l'acquisto di sanificatori e purificatori d'aria. I trasporti anche lì ovviamente è stata fatta una strategia per aumentare le corse e per rendere più sicuro il trasporto pubblico in attesa della riapertura delle scuole.